Sicuramente essere capitano per la prima volta è un grande onore e non me l'aspettavo devo dirti la verità e quando Andrea poi mi ha comunicato questa scelta ci ho pensato un po' su, devo essere sincera ma poi alla fine non c'è niente da pensare e quindi c'è solo la voglia di scendere in campo e dare di più di quello che non si è dato finora perché questo ruolo penso lo richieda un po'. Sicuramente subentrare dopo Silvia e Sara è una grande responsabilità, loro sono due ragazze che hanno sempre dato molto alla squadra, Sara sta continuando a dare e sono due capitani molto di campo nel senso che la loro grinta la si fiuta penso anche tra il pubblico però loro devo dire la verità mi hanno dimostrato da subito il loro appoggio poi con Sara come hai giustamente detto tu è anche una compagna di squadra e quindi il suo sopporto per me è fondamentale sia nel club che nella nazionale. grazie a tutti